cari amici la ricetta di oggi le polpettine di ricotta d'affioramento con olive e pomodorini marinati servite con una salsa e peperoni variegati per prima cosa ho tritato la mollica di pane con un frullatore l'ho messa in una bowl di vetro e ho aggiunto la ricotta di affioramento ho mescolato due prodotti creando un impasto omogeneo ho unito le uova sbattute in precedenza il trentingrana grattugiato il prezzemo tritato i pomodorini marinati le olive taggiasche tagliate ho creato delle piccole polpettine e le ho fatte riposare un'oretta in frigorifero per farle rassodare trascorso il tempo le ho impanate nel pangrattato e le ho fritte nell'olio di arachidi ho messo sul fondo del piatto la salsa e peperoni variegati l'ho adagiato le polpettine di ricotta ho guarnito o qualche fogliolina di crescione